Arte e cultura turismo in sinergia per lo sviluppo economico della nazione, il volano fiscale dell'Art Bonus è un tema di grande attualità in questo periodo? Sì, uno perché rappresenta ovviamente come primo elemento il momento di raccordo tra le attività culturali e il mecenatismo e ovviamente dal mecenatismo, quindi dal supporto alle attività culturali, nasce in una filiera corretta un'opportunità di sviluppo per il turismo. Sono temi che vedono, visto il tipo di platea di soggetti coinvolti, cioè le SAF del sud Italia, è un tema che chiaramente riguarda appunto in particolare il nostro meridione e ovviamente è più di interesse poi anche nazionale, ma certamente per il nostro meridione è un'occasione da non perdere come occasione di sviluppo appunto del nostro sistema economico. Anche perché il turismo effettivamente rappresenta una grande realtà nella nostra zona? Rappresenta una grande realtà perché in perfetta sostenibilità ambientale può rappresentare chiaramente un'occasione di sviluppo appunto economico e quindi noi sostenibilità ambientale e sviluppo economico sono quei due paradigmi che cerchiamo ovviamente di sviluppare anche in una logica di socialità sostenibile che è quella appunto che l'attività turistica consente. Grazie.